Qui siamo qui tra 2243. Quello è il rifugio Preus, che si vedeva da sotto. Questo è il Violet, che si trova proprio sotto le pareti del Violet. Qui il panorama tutto intorno. E' fantastico. Sembra di stare in un posto sperduto, con dei superstiti, perché ci sono poche persone in giro. Montagne tutto intorno, che si circondano. Bello. Adesso io continuo. Non mi fermo, mi fermo su. A dopo. Poi.